speciale del bandolo della matassa qui su Radio Radicale eh eh parliamo quest'oggi di spesa pubblica eh di conti e di nuove regole guardando all'Italia ma anche guardando all'Europa e approfittiamo di un articolo che è apparso il ventidue luglio scorso sull'economia del Corriere della Sera a firma Ferruccio De Bortoli e Enrico Giovannini che ben conoscete tra l'altro già ospiti di questi altri spazi qui su Radio Radicale eh dal titolo eh tanta spesa a poca resa conti pubblici nuove regole eh spesa pubblica trasparenza eh rischio eh beneficio intanto grazie per essere con noi a Ferruccio De Bortoli presidente della fondazione Corriere già direttore del Corriere la sera editorialista del Corriere bentornato grazie buongiorno Enrico Giovannini professore ovviamente fondatore eh dell'Asbis dell'Allianza Italiana per lo sviluppo sostenibile eh grazie per essere con noi anche in questo spazio grazie a voi buona giornata e grazie per essere con noi ovviamente in questo spazio eh Giorgio Arfaras economista del centro in Audi e della fondazione CERM buongiorno bentornato buongiorno e bentornato a Fabio Pammolli chair del comitato investimenti InvestEU e economist e direttore scientifico della fondazione CERM bentornato. Buongiorno grazie. Io parto proprio con Enrico Giovannini per riprendere un po' il filo dell'articolo eh che hanno scritto appunto sulle sulla necessità di un di un aggiornamento ehm costante rispetto alla qualità e la quantità della nostra spesa pubblica eh anche relativamente al nuovo patto europeo di stabilità eh in cui appunto eh dovremmo fare attenzione ai agli impegni che prenderemo eh fare attenzione al nostro deficit che insomma è sempre un punto molto dolente quando guardiamo i conti pubblici italiani. Forse partiamo da qui Giovannini? Sì partiamo da qui ma in realtà il nuovo patto di stabilità di cui tanto si è parlato anche sui media alcuni mesi fa eh non è forse conosciuto nei suoi dettagli perché eh molti commentatori si sono concentrati sulla versione che avevano concordato i ministri della fine delle finanze a dicembre e non sulla versione finale uscita dal cosiddetto trilogo tra commissione parlamento e consiglio. Le differenze sono importanti. In primo luogo perché se un paese vuole un po' più di tempo per rientrare da una situazione di deficit o di debito eccessivo può chiedere un'estensione da quattro a sette anni del periodo di rientro. Ma ma questo è il punto. Deve presentare un piano fiscale a medio termine in cui non dica soltanto quale sarà l'importo della spesa, dell'entrata e così via. Ma quali risorse, quali eh riforme, quali investimenti anche sociali vuole fare per eh aumentare la crescita potenziale, per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea, cioè la transizione ecologica, la transizione digitale, realizzare il cosiddetto pilastro sociale dell'Unione, aumentare la resilienza del sistema socio-economico al futuro. Ecco, queste aggiunte che sono state fatte appunto nel trilogo sono forse poco conosciute. Perché sono importanti? Perché l'Italia che certamente chiederà un prolungamento del periodo del periodo anche di riforme, di investimenti e spiegare anche al pubblico perché sceglie quelle spese o quelle riforme invece che altre. E concludo su questo la data entro cui il piano deve essere presentato è il 20 settembre. Ora io non voglio rovinare le vacanze a nessuno. Però dice il regolamento che questo piano va discusso con la società civile, con il Parlamento. Il Parlamento che tipicamente riapre il 10 settembre. Ora che si discuta di un piano così importante che riguarda i prossimi 5-7 anni in dieci giorni non mi sembra una buona idea ed è per questo che abbiamo scritto questo articolo con Ferruccio De Borto. E sentiamo proprio, grazie intanto Enrico Giovannini e Ferruccio De Borto, appunto ricordavamo la data del 20 settembre che è davvero molto vicina, data tra l'altro simbolica, breccia di Porta Pia, bisogna fare anche breccia, un nuovo modo di condurre i conti pubblici. E intanto poi per voi, per Radio Radicale il 20 settembre è ancora maggiore importanza. Esatto, esatto. No, aggiungo soltanto a quello che ha detto autorevolmente il mio amico Enrico che insomma noi abbiamo ancora, diciamo nella nostra idea che stiamo preparando la prossima legge di bilancio e che quindi abbiamo la necessità di recuperare un certo ammontare di risorse per rientrare diciamo in diminuire il nostro deficit, quindi si ipotizza intorno allo 0,5% del PIL, quindi insomma 12-13 miliardi insomma. In realtà quest'anno la legge di bilancio sarà meno importante, sarà invece più importante il piano che dovremo presentare, tra l'altro presentare per i prossimi sette anni, perché non è che poi ogni anno se ne presenta uno, sarà aggiornato ogni anno e ogni anno tra l'altro bisognerà dimostrarne l'attuazione, quindi quegli elementi di impatto sulla società oltre che sull'economia saranno sempre importanti, quindi proprio per questa ragione con Enrico abbiamo sollecitato una certa attenzione su quelli che sono gli indicatori del cosiddetto bilancio ecosociale, cioè il cosiddetto BESS insomma, perché saranno ancora più utili per cercare di capire in questo lungo tratto di sette anni se saremmo stati in grado di ottenere dei risultati non solo dal punto di vista della finanza pubblica ma anche dal punto di vista dell'impatto, delle riforme. Come abbiamo utilizzato quei soldi esatto, in realtà è come se a un certo momento si fosse, qui chiedo scusa agli economisti presenti, io sono purtroppo soltanto un giornalista quindi sono abituato a semplificare e a volte in eccesso, è come se a un certo momento si istituzionalizzassero le procedure del piano nazionale di ripresa e resilienza perché sostanzialmente questo è, cioè ci sarà dato più tempo, più spazio per rientrare eccesso di deficit e quindi per diminuire il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo ma affronte naturalmente in una serie di impegni come nel PNRR sul piano delle riforme, sul piano degli impatti sociali. Non bisognerà soltanto dimostrare, dimostrare, non so se condividete questa mia semplificazione, non si tratterà soltanto di dimostrare il rispetto di alcuni parametri finanziari così come siamo stati abituati da Maastricht in poi, ma bisognerà dare dimostrazione che l'impatto sulla società di questo piano di rientro è da 4 a 7 anni che poi in qualche modo legherà le mani anche alle maggioranze future. Questo tra l'altro è abbastanza curioso che un governo sovranista abbia legato le mani nella politica economica molto più di più di quanto la propaganda lasci intendere. Ed è ovvio che naturalmente questi elementi che sono poi gli elementi degli indicatori del BES saranno particolarmente importanti. Quindi un dibattito sarebbe necessario averlo, mentre in realtà noi andiamo avanti nell'idea che tutto sommato, anzi devo dire che siccome le entrate fiscali sono per fortuna in aumento, passa anche l'idea che forse tutto sommato non sarà neanche necessario chissà quale sacrificio, mentre in realtà bisognerà prendere degli impiegi piuttosto importanti. Volevo fare una domanda a De Bortoli e a Giovannini perché il punto che toccava a De Bortoli rispetto anche a quanto abbiamo caricato di aspettative e anche di problematiche, molto evidentemente il PNRR mi sembra un punto molto importante perché, e la domanda è questa, cioè non è che diciamo la croce delizia del PNRR ripresa e resilienza tutto sommato per i prossimi anni in qualche modo non voglio dire, deresponsabilizza le manovre di bilancio, cioè le svuota un po' di significato, o forse no, o forse sì. De Bortoli che cosa ne pensa? C'è questo rischio? Faccio la stessa domanda anche a Enrico Giovannini. Ma insomma si apre il ventaglio degli impegni europei, no? C'è stata tutta una discussione sul nuovo patto di stabilità e crescita se a un certo momento fosse più o meno stringente rispetto a quello che era il patto precedente che aveva tra l'altro moltissime flessibilità. questo ovviamente ne ha di meno e sarebbe interessante capire l'orientamento degli altri partecipanti a questo dibattito. ma soprattutto si sposta l'attenzione sulla effettiva implementazione delle riforme e sulla competitività e il prodotto totale che gli interventi garantiscono. è un cambiamento molto significativo, cioè è importante capire e valutare ex post soprattutto l'efficacia di alcuni interventi, di alcune riforme e anche di come alla fine spendiamo. posso dire che siamo un po' meno liberi dal punto di vista delle nostre politiche economiche perché per esempio se noi adotteremo un certo PSB dal 20 settembre in poi questo legherà le mani anche a una maggioranza fura, certo è previsto che comunque si possa in caso di elezioni ricontrattare ma ricontrattare da una posizione di debolezza è sempre estremamente difficile per cui ci troviamo di fronte ad un piano a medio termine che va al di là della durata della legislatura pur essendo stato congegnato per spostare il più avanti possibile gli eventuali interventi di un certo peso. Grazie. Enrico Giovannini, sullo stesso punto, piano nazionale di presidenza e leggi di bilancio, cioè negli ultimi tempi... l'Italia ci ha messo un anno a imparare come si chiama il PNRR perché ricorderete che per un anno si continuava a parlare di Recovery Fund che era il primissimo nome del piano di ripresa. Ecco abbiamo due mesi per fare una cosa che ricordo il governo Draghi fu nominato proprio per finalizzare il PNRR dopo più di due mesi perché giustamente la legge di bilancio riguarderà gli investimenti e qui c'è una regola importante ma soprattutto le riforme che non possono andare in legge di bilancio per varie ragioni. Quindi il governo deve presentare come per il PNRR un pacchetto con scadezze di quale altre riforme vuole fare al di là di quello che è messo in legge di bilancio dove ovviamente servono le coperture finanziarie. Un punto molto importante. Il nuovo patto prevede che il livello degli investimenti nei prossimi anni non possa scendere, se non marginalmente, sotto a quello degli ultimi anni che è stato pompato dal PNRR. Qual è dunque la logica di questo nuovo patto? Fai investimenti, fai risorse, taglia la spesa corrente per fare tutto questo il che è una rivoluzione totale rispetto al modo con cui normalmente procediamo in Italia. Grazie Giovannini. Arrivo a Giorgio Alfaras. Giovannini e De Bortoli ci dicono appunto con le nuove regole UE il programma di riduzione dell'extra deficit potrà essere meno severo di fronte a investimenti per migliorare la condizione sociale dei cittadini peccato che l'ultima fotografia degli indicatori di benessere e sostenibilità certificasse una sostanziale inutilità della legge di bilancio nella lotta a povertà e disuguaglianza. Insomma, questo è anche la sintesi di quanto abbiamo detto in parte fino ad ora. Alfaras, che ne pensi? Ma allora, il mainstream cos'è che dice? Dice che in fondo le cose, se non succede niente di drammatico, vanno avanti. Nel senso che tu fai delle manovricchie per ridurre il disavanzo primario, se i tassi di interesse non salgono, si ha una crescita economica minima con un ciccio di inflazione, in questa situazione qui non succede niente e ce la caviamo. Questa sarebbe, diciamo, l'opinione più diffusa. In realtà è molto più complicata la storia perché il punto è che tu... È una sorta di galleggiamento poi. Sì, ma tu scommetti che non succeda niente di negativo, ma puoi fare una scommessa implicita, peggiore o più grave, che è quella che dice, a me in fondo non interessa più di tanto riuscire a cambiare l'economia perché se sopravvivo pago un prezzo minore di quello che pagherei se dovesse cambiare le cose. A questo punto vi dico una cosa che non so quanto sia vera. A me l'hanno raccontata come vera, che però è una chiave interessante per affrontare il problema, attribuita ad Andreatta 30 anni fa. E cioè chiedono ad Andreatta una riunione riservata. Ma perché l'euro? Perché Andreatta dice Siccome noi non siamo in grado di governarci, ci facciamo governare dalla democrazia cristiana tedesca. Cosa facciamo a farci governare la democrazia cristiana tedesca? Con l'euro. Questa nuova, che non è male come battuta, ma diciamo se è vero o meno mi viene attribuita, però è una chiave di volta. Allora questa nuova cosa di cui si parlava, cioè questo nuovo patto per cui oltre agli aggiustamenti di bilancio hai anche una spinta a cambiare il paese nella direzione dello sviluppo, diventa io mi faccio governare dall'Europa perché da solo non sono in grado di governare. È una roba da adulti. Cioè io sovranamente rinuncio alla sovranità perché altrimenti non riesco a fare le cose che devo fare. Questa sarebbe una cosa che io suggerirei ai sovranisti dicendo che se loro accettano questo piano sono ugualmente sovranisti perché sovranamente decidono di rinunciare alla sovranità. Quindi non si capisce il motivo per cui non dovrebbero essere tutti d'accordo a farsi mettere questo corsetto per migliorare il paese. Grazie, grazie Giorgio Alfaras. Poi ci torniamo magari in un secondo e ultimo giro. Fabio Pammoli, professore, che ne pensa? Ovviamente dell'articolo di De Bortoli e Giovannini e anche ovviamente circa la portata di quanto una legge di bilancio dovrebbe ambire a fare, e soprattutto di questi vincoli così stringenti di questa data del 20 settembre che è davvero dopodomai. Intanto è importante che si dibatta e si discuta di questi temi e che si porti questo tema a una salienza, a una visibilità che vada al di fuori delle audizioni parlamentari e della discussione strettamente tecnica, perché come è stato correttamente rilevato sia da Ferruccio De Bortoli che da Enrico Giovannini, stiamo discutendo dell'architettura di politica economica e di politica fiscale futura del paese. Quindi questo è un primo elemento, quindi è meritorio segnalare l'importanza di un monitoraggio e di una discussione, di un dibattito su questi temi. Poi credo che vadano forse identificate alcune categorie di riferimento. La prima che vorrei evidenziare è che nonostante le preoccupazioni di Taluni, il dato che forse prima di tutti possiamo evidenziare è che il nuovo quadro e la nuova governance che è stata varata è coerente con il quadro di riferimento costituzionale, faccio riferimento sia all'articolo 81 che all'articolo 97, può richiedere qualche e richiederà aggiustamenti alla legge 243 del 2012 e a quella del 196 del 2009, quindi alla legge rinforzata del 2012 e alla 196 perché ci sono delle modalità di fatto diverse nell'impostazione di alcuni dei documenti e sicuramente avrà un impatto sui regolamenti parlamentari perché la sequenza temporale e non solo la denominazione ma anche il contenuto di alcuni dei documenti e le modalità di aggiornamento cambiano. Sul primo anno va osservata la difficoltà oggettiva perché la comunicazione della commissione sulla traiettoria, quindi sul sentiero, diciamo, di crescita ammissibile per la spesa netta, su questo torno tra un secondo, al quale corrisponde anche un sentiero di evoluzione dell'avanzo netto primario e quindi un impatto su tutti gli indicatori diciamo che vengono utilizzati per valutare la sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica degli stati membri. Ecco, questa comunicazione da parte della commissione avviene nella seconda metà del mese di giugno, verso la fine del mese di giugno è avvenuta. Quindi, e naturalmente, la presentazione al Parlamento è la chiusura deve avvenire entro il 20 di settembre. Quindi, da questo punto di vista credo che per il primo anno la compressione dei tempi del dibattito sia anche indotta da una difficoltà oggettiva legata al calendario. Dopodiché si possono fare altre considerazioni sull'importanza di una preparazione possibile rispetto a questo quadro. però il quadro di riferimento è abbastanza legato a una fase transitoria che riguarda soprattutto l'esigenza di aggiornare i documenti di riferimento in modo conciliabile con la fine di sessione di bilancio prossima. Quindi, questo è solo una nota a questo punto. Prego. Torniamo alle battute. Giacomo Vaciago quando si discuteva dell'euro diceva speriamo di entrarci nell'euro perché così finalmente discuteremo del perché ci siamo voluti entrare. Ecco, il messaggio che sta passando in questo momento nel dibattito pubblico è che appunto va tutto bene più o meno. e invece poi il 20 settembre questo piano va presentato. Assolutamente. Arrivo a due considerazioni Enrico. La prima considerazione è che secondo me noi abbiamo un cambiamento epocale nel modo con il quale si svolgerà l'interazione tra ministeri e quindi l'interazione all'interno dell'esecutivo perché il target aggregato di crescita della spesa netta che poi sarà ufficializzato dopo le diverse interazioni tecniche tra commissione e ministero dell'economia e delle finanze determina giusto appunto un orizzonte pluriennale di riferimento con un indicatore aggregato che è il tasso di crescita della spesa netta a cui corrisponde tutta una serie di indicatori tra cui ovviamente un target di avanzo primario strutturale. Questo è un cambiamento epocale perché si passa inevitabilmente almeno questa è la mia opinione a un approccio top down o comunque in un bilanciamento tra quello che può essere un approccio bottom up cioè dove i ministeri di spesa si presentano annualmente in preparazione della legge di bilancio e discutono diciamo i margini e le varie opzioni per quell'anno qui abbiamo la scomposizione di un indicatore aggregato che deve tradursi in una serie di indicatori di crescita target per i ministeri di spesa e per gli antilocali questo come i radioscoltatori si staranno rendendo conto è un discorso molto diciamo tra tecnici e addetti economisti ottimi conoscitori dei ministeri diciamo che su questo hanno delle competenze specifiche al di là della tecnicalità è un tema importante perché implica per i ministeri di spesa l'assunzione di una logica pluriennale per la capacità di interlocuzione e per la ragioneria generale dello Stato è un cambiamento organizzativo enorme significativo che non credo si realizzerà al tempo tic con zero credo che richiederà del tempo per essere poi calato in procedure in naturalmente sapendo che non si tratta semplicemente di dire visto che il tasso di crescita aggregato è dell'1,6 o dell'1,5 o dell'1,4 o di quello che sarà e allora significa che questo tasso di crescita si può applicare a tutti quanti perché sappiamo benissimo che ci sono delle spese incomprimibili e che c'è un'eterogeneità di considerazione soprattutto se quell'1 a volte anche 1 e basta per lo 0,9 è composto dalla spinta del piano nazionale ripresa e resilienza che è un altro diciamo elemento di cui abbiamo discusso anche qua al bandolo cioè che complica ulteriormente la partita insomma ma questo diciamo ora secondo me se volessimo analizzare come in maniera più approfondita di quanto non abbiamo fatto altre volte a questi microfoni diciamo l'impatto della parte economica quindi non della parte riforme il PNRR credo che sarebbe oggetto di un importante approfondimento tenendo presente una stella polare che prima Giovannini richiamava che è quella dell'impatto sul PIL potenziale ecco credo che quindi da questo punto di vista diciamo credo che questo processo avrà e abbia delle conseguenze organizzative operative molto profonde l'unica considerazione che faccio è che sul primo anno probabilmente i tempi effettivamente sono molto compressi voglio anche dire però due cose la prima è che se l'Italia vorrà avere un sentiero di aggiustamento spalmato su sette anni quindi con la possibilità allora di avere obiettivi di crescita della spesa netta e di avanzo primario strutturale più diciamo compatibili con il mantenimento della legislazione vigente o delle politiche invariate e di una parte di misure che sono già state adottate lo farà giocandolo anche sul terreno delle riforme da qui l'analogia forte con il metodo PNRR la seconda è che la possibilità di aggiornamenti annuali dei documenti nazionali di programmazione di bilancio comunque verrà mantenuta quindi non è che possiamo immaginare diciamo una rigidità che si spinga fino alla difficoltà di aggiornare i documenti di programmazione però effettivamente l'orizzonte pluriannale è viva Dio la buona notizia di questa nuova governanza europea perché costringe ad avere dei parametri un po' più stretti diciamo e dei tempi un po' più certi soprattutto a un orizzonte di lungo periodo insomma nel quale poi le responsabilità si misurano precisamente De Bortoli su questo su quanto detto appunto sia da Arfaras che da Pammoli e giustamente anche la precisazione che faceva ironica ma insomma puntuale Enrico Giovannini visto che abbiamo degli esperti diciamo in qualche modo anche degli insider questa precisazione è un ingazio particolare Fabio Pammoli ci porta a sottolineare che siamo alla vigilia di un cambiamento non soltanto di metodo ma anche di cultura della nostra finanza pubblica per esempio la domanda che mi pongo e vi pongo se a un certo momento tutti i ministeri saranno chiamati a ragionare in una logica di programmazione pluriennale delle spese e degli investimenti con una grande attenzione ovviamente al tasso di realizzazione di quelli che sono stati i programmi beh insomma forse verrà meno quella abitudine molto consolidata degli ultimi anni di coalizioni di varia natura politica che è quella di prendere una decisione finanziarla faccio l'esempio del cuneo fiscale finanziarla per un anno e poi rimandare il problema del finanziamento per l'anno successivo alla legge di bilancio che seguirà ecco immagino ma questa è una mia speculazione immagino che questa abitudine verrà meno perché insomma non sarà più compatibile con il fatto che si sia preso un impegno così rilevante su un arco di tempo così lungo ecco allora questo forse può chiarire anche il fatto che alcune promesse non si possono mantenere nel medio nel lungo termine penso soltanto a tutte le misure che riguardano la sostenibilità del sistema previdenziale ecco bisognerà prendere delle misure che dureranno più anni finanziarle da subito calcolare gli impatti e forse da questo punto di vista sarà molto più più serio il dibattito sulla finanza pubblica ci saranno meno illusioni ci saranno meno scorciatoie però questa è una domanda aperta che mi rivolgo fammolli che così risponde subito a De Bortoli questo intervento di Ferruccio De Bortoli io non so se lo immagino sicuramente me lo auguro e sicuramente dovremmo cercare nelle rispettive capacità e nella pulsione diciamo da appassionati alle sorti del nostro paese di far sì che questo avvenga perché questo sarebbe effettivamente un cambiamento di cultura nella politica economica e anche probabilmente un forte impulso a una migliore qualità della presenza del Parlamento nei rapporti con l'esecutivo quindi sicuramente diventa un terreno di grande di grande interesse io non dico che sarà così dico che mi auguro che sia così e credo che questa discontinuità introdotta dalla nuova governance europea rappresenti un'occasione unica per certi versi per affermare questa discontinuità di metodo il punto è il rapporto tra Parlamento e il Governo è chiaro che il Governo è molto più rafforzato soprattutto quest'anno in cui il Parlamento in queste settimane è chiuso a fare quello che riterà più opportuno senza nessuna interazione col Parlamento e tra l'altro è un Parlamento che viene diciamo chiamato molto spesso solo per fiducia e quindi che è uno degli aspetti diciamo maggiormente criticati attualmente il Parlamento strillò giustamente da un certo punto di vista quando come Governo Draghi mandammo il PNRR il 28 aprile e la scadenza era il 30 aprile ci troveremo più o meno in una situazione del genere però a ragione a molli e a ragione ferruccio nel momento in cui questa procedura diventasse a regime beh allora eviteremmo quelle discussioni inutili sul documento di economia e finanza che di nuovo si svolge in dieci giorni ma poi tanto il Governo fa come gli pare quindi è veramente un cambio profondissimo potenziale di rapporti anche tra Governo e Partito e quindi una questione di democrazia grazie non so se Giorgio Alfaras vuole aggiungere qualcosa in coda ok è anche ferruccio De Bortoli credo insomma ci siamo ci siamo detti tutto credo che sia stato tra l'altro uno speciale molto utile perché il tema è importante come avete capito l'editoriale di De Bortoli Giovannini su economia del Corriere lo era altrettanto e anche diciamo in qualche modo l'interlocuzione il dibattito di questa mezz'ora è stato anche credo utile per capire che cosa potremo ritrovarci a vivere prossimamente quali devono essere gli impegni stringenti che il Governo si dovrà prendere carico anche nel rapporto stretto con l'Europa e con l'attenzione non solo al debito pubblico e ai conti pubblici ma anche a quegli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale a cui dobbiamo fare sempre più riferimento grazie davvero Enrico Giovannini per il Cioo De Bortoli Giorgia Prat Fabio Pammolli per questo interessante bandolo della matassa qui su Radio Radicale alla prossima